Sono 45 i migranti ospiti a Campolieto e qui in questa struttura sono stati rilevati anche gli unici due positivi al Covid-19 dopo il tampone eseguito dagli operatori ASREM sui 171 migranti in arrivo da Lampedusa. 45 ospiti, dicevamo altri 83 destinati a Campomarino, 43 si trovano a Isernia. Come è accaduto proprio a Campomarino dove 32 sono fuggiti riuscendo a deludere i controlli, questa mattina anche a Campolieto due tunisini approfittando del cambio turno delle pattuglie che H24 sono qui a garantire ordine pubblico e sicurezza hanno provato a scappare. Uno scatto rapido e diretti verso il campo arato fronte strada sono stati immediatamente inseguiti dagli agenti della polizia di Stato. I due migranti hanno continuato a fuggire sordi all'intimazione di fermarsi da parte degli uomini della questura. Quindi la reazione quando sono stati afferrati nella corsa, violenta e feroce, una colluttazione che è finita sì con le manette e due migranti, ma anche con il trasferimento in ospedale di due agenti feriti che, medicati al pronto soccorso a causa delle lesioni conseguenza dei colpi ricevuti, hanno ottenuto diversi giorni di prognosi. I due tunisini sono stati trasferiti in questura e qui sono stati rinchiusi nelle camere di sicurezza in attesa delle decisioni del sostituto procuratore Giuliano Schioppi che si sta occupando del caso. Saranno giudicati domattina con rito direttissimo e probabilmente di nuovo trasferiti nella struttura di Campolieto, dove attendono, assieme ad altri connazionali, di essere sottoposti al secondo tampone di verifica.